Ciao a tutti ragazzi qui c'è Duzzo e ben ritornati sul mio canale Come potete vedere siamo ritornati su Deus Ex Mankind Divided Questo perchè oggi andremo a fare il mio primo let's play sul mio canale Ed è per questo che mi pita lasciare un mi piace perchè sono dei video lunghi Che vanno dai 15 minuti ai 20 minuti ai 30 minuti E sono dei video belli pesanti da portare Vabbè ragazzi quindi adesso noi andiamo a iniziare la nostra storia Guardalo ora Ennesimo attentato legato ai potenziati I 251 passeggeri del volo 451 della Sister Airlines hanno perso la vita Un potenziato è entrato nella cabina di pilotaggio e ha massacrato senza pietà tutto l'equipaggio No La scatola nera sembra indicare che l'uomo fosse vittima di un flashback dell'incidente dei potenziati L'orribile giornata di due anni fa quando molti potenziati hanno sviluppato una follia omicida La più grave perdita di vite umane degli ultimi decenni A volte bisognerà segnarsi E accettare ciò che sia diventati Vedi di non uscire di testa tostapane Va bene? Beh se accadesse Nemmeno te ne accorgerai Agente Jens Devo aspettarmi qualche problema? No signore Non vedo perché dovresti Bene Perché tu sei l'unico agente potenziato di questa squadra E sfrutterò le tue capacità Ascolta Sono in più forte Abbiamo una tempesta di sabbia in arrivo su di noi e non possiamo commettere errori Il bersaglio è quest'uomo Un trafficante di nome Shepard Un ex Bell Tower Era nelle forze speciali uno dei comandanti spariti durante l'incidente Ed è uscito allo scoperto Non va bene per niente Infatti Vende armi e potenziamenti di tipo militare e terroristi Questo È Aransi L'agente infiltrato che ha stamato Shepard È il migliore dell'Interpol Per tre anni ha lavorato per ottenere la fiducia dei Jinn Dei contrabandieri iracheni Diffusi come una piaga nell'area orientale La settimana scorsa il nostro trafficante ha contattato i Jinn Offrendo una grossa partita di attrezzature a un prezzo ridicolmente basso Hanno detto a Singh di gestire l'affare Non gli piacerà che l'Interpol gli rovini la festa? La copertura di Singh regge? Per adesso regge Facciamo sì che la mantenga Qui è dove si svolgerà l'affare Un hotel nel grattacielo incompleto abbandonato fino dai tempi dell'incidente Dentro è piuttosto malmesso Vediamo un po' Molti operai erano potenziati con sistemi industriali pesanti Durante l'incidente sono impazziti tutti È stato un autentico macello E nessuno, tranne qualche drogato, ha messo più piede là dentro da allora Quindi qual è il piano? Singh si incontrerà con Shepard al piano terra nell'atrio principale Ha mandato il grosso dei Jinn nell'attico Che offre una posizione elevata La squadra di McReady si piazzerà in modo che possa controllare l'atrio ed effettuare l'arresto Jensen, tu entrerai solo dal tetto Il mio obiettivo? Tenere i Jinn fuori dai giochi Per quanto ne sappiamo, esiste un solo passaggio dall'atrio al livello dell'attico Si tratta di un ascensore situato qui Voglio che blocchiate l'accesso Bene, ci penso io Vuoi usare solo i tuoi potenziamenti per quest'operazione? Ti consiglio di prendere qualche arma Non si sa mai Andiamo per... Scegliamo letale, ragazzi Scegliamo letale, va Non voglio lasciarci la pelle Mi serve qualcosa di letale Scegli tu Però ricorda che Singh è in incognito Quindi vedi di controllare bene prima di sparare E la portata? Là dentro ci sono molti spazi aperti con soffitti alti Ma anche numerose stanze di piccole dimensioni Quindi è un tiro alla cieca alla fine L'arma a lungo raggio Arma a corto raggio A me piace molto il fucile d'assalto Facciamo arma a lungo raggio Non ho intenzione di andare troppo sul personale Dammi qualcosa con una buona portata Come vuoi Così ridurrai il rischio di essere visto Compromettendo Singh Un'ultima cosa, Jensen Singh dice che i Jean utilizzano un dispositivo wifi per potenziare le comunicazioni Se lo disattiverai avrà più possibilità di mantenere la propria copertura Vedrò di localizzarlo Ma non dobbiamo muoverci Non c'era una tempesta in arrivo? Sì, c'è E le informazioni sull'operazione sono arrivate all'ultimo Per cui dovremo improvvisare un po' La tua priorità, ricorda, è tenere i Jean lontani da quell'adrio Ricevuto Adesso vediamo di concentrarci, signori Ci stiamo avvicinando al bersaglio Il primo sei tu, Jensen Diamoci dentro Ah, siamo pronti all'attacco ragazzi Attivare propulsione silenziosa e scendere a 1.500 Addirittura senza paracalute, senza niente Che avrà qualche tutelare Ah, c'ha i poteri Siamo in un deserto arabico Allora, acquisto al mercatorino Blocca l'accesso all'adrio Ok, secondario disattiva il potenziale Che mi parla pure nel joystick questo Ok, per scattare Ok Ci siamo Stiamo i calmi Mamma, zitta per favore Che mi parla questo qua da dentro Ok, RT per accovacciarci Ci accovacciamo subito Allora, qua Pannello Allora Pannello condotto Apri Mono Condotto indistruttibile Apri indistruttibile Perché poi non è che con un colpo L'ho rotto Allora Qua che c'è Ah, possiamo pure a prendere i coni E lanciarli Guardate che figo Prendi questo cono Lancialo Con la foccia del pensiero Bello Allora, saliamo le scale Mamma mia Ok Eh, cassa Ok, possiamo spostare Quindi noi dobbiamo Spostare le casse Se per forza dobbiamo passare Ok, lancia qua Sì, non me la prende però questa Lancia qua Come i peggiori scaricatori di porto Ok Ci siamo Adesso cosa dobbiamo fare? Ah, per saltare Ok, salta Quindi, tieni X E muoiti in avanti Per aggrapparti Ah, così dici Ok Ok, bravo zio Mi piace questo tutorial Eh, non voglio che mi parli dal controller Perché ti ha fastidio Poi quando vado a registrare Ok Vaffanculo Vieni premuta l'E3 Per accendere E mettere la ruota potenziamenti Ah, ok Ah, ok Queste sono le varie Belle, belle Mi piace Queste sono le nostre abilità praticamente Sì, vi sono assistita Premi L1 per assegnarla L1 Ok E cerchio per uscire Bella Mi è piaciuto L1 per attivare la visione assistita Vediamo che picchiaia che è figo Allora qua possiamo rompere Punto debole Boom Che pugno Bellissimo Bellissimo Entriamo Allora Tastiera Disabilitato Acquista La dobbiamo mettere in funzione La tastiera Possiamo usare Qualche Vediamo se possiamo Ah, qua ci sono le nostre cose Ok Ok Allora Tieni venuto R3 per accedere all'inventare o rapido E riacquistare energia Ok Dici questa Ho capito Tieni venuto R3 per accedere all'inventare o rapido E riacquistare energia Allora Fucile d'assalto Granata fumogera Ricavoni arma Fucile d'assalto No R2 Ok R2 abbiamo preso un po' di energia Alessio No E qua che dobbiamo fare Qua È bloccata la porta Però noi dobbiamo seguire Seguiamo le tracce di questa cosa Dove porta? Ovviamente porta dall'altra parte Noi possiamo Come energia è insufficiente Passiamo di qua sotto Ok 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 Aperto Interruttore No no Che stiamo facendo? Ehi Perché sto morendo? Preso l'elettricità? Ah Sotto sta che La tastiera la possiamo usare Ok Violare informazioni di rete Ok Violiamole L per spostarti al nodo successivo Allora Registro Ma qui ne vedete Dobbiamo fare 1 Eh Lo strumento di diagnosi Risale alla porta E per l'espelle rudente Raggiungi il tempo Allora Allora 1 2 Fortifica Fortificazione in corso Abbiamo messo là Fortificazione Ok Cattura L'hai preso Ok Accesso consentito Mamma mia Violazione come i peggio hacker Abbiamo violato tutto Apri Andiamo piano Andiamo piano Che qua ci vedo qualcuno Ok Ripari Allora Segui ologrammi Per ricevere le istruzioni Su bar No 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 Chiudi Già il tutorial L'abbiamo fatto ragazzi Allora Dobbiamo decidere Se ucciderli Io direi di ucciderli C'è qualcuno No non c'è nessuno Quindi solo un lacina Ok Ci avviciniamo Mera bene In modalità stealth Vediamo se riusciamo Ad ucciderlo Oddio Ok Uccidiamolo La madonna Che cazzo di coltello Che ha Seguiamolo piano piano Quello passo passo Senza farci vedere No No Questo parlano arabo E non capisco niente Ok Quando si Si Quando si Oh Ce l'abbiamo proprio qua accanto Come fa a non vedermi Ok Uccidiamo pure lui Mamma mia E spariamo pure lui Mamma mia Quando le cose Si fanno male Ok Scavalliamo Allora qua Chiamano l'ascensore Chiamano l'ascensore Bobo Bom Ok Siamo all'ascensore Chiamano Seleziona piano Ok Tetto Andiamo sul tetto Ok Seleziona piano Attici Bello Bello l'ascensore No Ma perché io Vi sento Io non Allora voglio Nell'opzione Perché non voglio Farmi sentire L'audio Oh Eccola qua Vediamo quando Arriveremo Ok Siamo qua Ce l'abbiamo davanti Adesso si è buttato Perché si è buttato Ok Scendiamo piano piano Noi Piano piano Vediamo se riusciamo a prendere Di suo piatto Siamo gli di lato Facciamo Silenzio Uccidiamolo Mamma mia Bam Pugno Allora Andiamo piano piano Pure noi C'è qualcuno? Sì Ce sono due Ok Qua ce ne sono due Ok Allertato Allertato Ci mettiamo qua Forse non ci vedono Ci hanno visto Ma non ci vedono Ok Se non ci vedono È meglio Andiamo piano piano Ok Quando il gioco Ci fa duro Dobbiamo per forza Fare così Adesso qualcuno Dove arrivare Da qua un'altra volta Eccolo qua Che arriva il babboccio E muori Ah Alza la voce Andiamo piano piano Vediamo se Riusciamo Allora Dove sono loro Andiamo uno qua Uno qua Vediamo se riusciamo Ad andare Senza farci vedere Allora Andiamo là Ok Andiamo se si muove ad andarsene Andiamo là No 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 Non ci ho visto Per poco Andiamo con calma Con calma Il progetto di là Possiamo anche andare di qua Ottimo Ottimo Però qua ci vedrebbero Ok Di sotto non c'è nessuno Quindi potrei andare pure di sotto Tipo Senza farmi vedere Piano piano Infatti ora Eccolo qua Non vuoi venire Facciamo il giro di sotto Facciamo il giro di sotto Nessuno ci vede Nessuno ci copre Qua c'è qualcuno Ma noi corriamo Proprio ci faceremmo Notare Allora Ci hanno scoperto O sbaglio Sì sì Ci hanno scoperto Ebbene Muori Facciamo così ragazzi Facciamo vista Siccome ci hanno scoperto Riusciamo ad andare avanti Ci mettiamo qua Li aspettiamo Ed è forse anche Una cosa migliore da fare Perché Dove cazzo sono Di sopra A me stai parlando Vedi Vedi che stai parlando Con ceduzzo Non c'ho Non c'ho niente Ragazzi Ok Ce l'abbiamo di dietro E uccidilo Boom Con tutto questo Per morire Ci mettiamo qua Ragazzi E muori pure tu Ok Boom E muori pure tu E muori pure tu Ricarica veloce Veloce che non posso aspettare Boom Muori Una granata Mi hanno dato ancora Ancora Non vedo niente ragazzi Solo tramite la mappa Sto vedendo Non sto capendo Niente Perché c'è la granata Qua che Ok Ok Ci mettiamo qua Noi E poi i coglioni Arrivano Ricarica però Ricarica 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 Andiamo piano piano Noi Piano piano Facciamo tutto Senza farci vedere Con la forza Piano poi Lo dobbiamo superare Questo pezzo Oh mamma mia Buono così Qua ce ne deve essere uno Se non sbaglio Lo ammazziamo subito Subito appena lo vediamo Eccolo qua E muori Palmare Ok ho preso il palmare Non so che cazzo è Si deve essere Che cosa in più Buono Possiamo andare ragazzi Poi ci abbiamo Campo libero Sì Abbiamo Proprio Abusato Perché sta alzato Sta abbassato Lo sta alzato Ok Non ci dovrebbe essere nessuno Dato che abbiamo fatto Via tu Fuori tutti Forse anche la cosa migliore Ragazzi Anzi forse ce ne è uno Qua che dovremmo ammazzare Sì perché forse Solo quello è rimasto Eh si Questo qua È bugato È bugato Perché stava fermo Non mi sparava Ragazzi Piano piano Ce la possiamo fare A fare tutto Dobbiamo solo stare attenti Ovviamente se Non ce la facciamo Nella maniera Stealth Là ce ne è uno Come ho detto Come non detto Prendi tutto Oppure avevo dei soldi Questo Se non ce la facciamo Nella maniera Stealth Dove cavolo è Questo Là so Noi non in testa Perché dobbiamo andare Tanto là E qua Ce ne è uno Ok Andiamo piano piano Qua Piano piano Noi siamo Andiamo con calma No Quello ci ha visti però E direi di fare Un colpo di pistola In testa Voi che dite Così Zitti zitti Calmi calmi Un colpo in testa Nessuno ve lo vieta Porta aperte Per noi Uh Hai disattivato Quel potenziatore No Non l'ho trovato Allora speriamo bene Per la copertura di Singh O ne risponderai a me Eh speriamo Allora E questo qua Come sempre Bufalo Con un colpo di Un colpo di testa Ok Mamma mia Dove è bello in sé Questo gioco ragazzi Finalmente mi sta Piacendo Quindi Vediamo se C'ha qualcosa Buono Mamma mia Apposta Non fare casino Perché Eh Alzati Vediamo se c'è qualcuno Lo controlliamo sempre Siamo calmi Ok Apri Dobbiamo violare Allora Fortifica Innanzitutto Ok Tracciamento avviato Ok Ho accesso consentito A posto Mamma mia Più facile così Non si poteva fare Ok Aprimi però la porta Cazzo Ok Squadra d'assalto In posizione Strike 1 In posizione Strike 2 Pronto Strike 3 Pronto Strike 4 In posizione capo Occhi aperti E piele sicure Sì sì Non mi giro Un secondo Chiudi quella fogna Halliday Tappatevi la bocca 5 In posizione Tenersi pronti Sing vede Shepard Trasmissione Versaglio in zona Ricordate C'è anche Sing Occhio a dove Sparate Hai coraggio Sing Un affare Con una tempesta Alle calcagna Madre natura Fa come le pare Signor Chiamami Shepard Bellino Queste sono le armi I potenziamenti Bracci come armi Sono merce rara Le armi sono ancora a bordo Mostrami subito i soldi E Ma che Eccolo da dietro Adesso che devo fare Ammazzarli tutti Non sono i Jin Ripeto Non sono i Jin Quelli vogliono le armi Fuoco 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 volontà Ho capito Allora Blocca l'accesso All'atrio Ok Se mi fanno passare Scendiamo subito All'atrio Cerchiamo di bloccare Sto elicottero Ecco Già qua posso sparare No Ci sono troppe vetrate Dai veloce Elicottero Ok Come vuoto questo Dammi l'arma Cioè se non mi sbaglio Apri il cecchino No 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 Che è successo Lascia che uccidiamo a questo Un po' Un po' Un pugno e via A me Con la tempesta Ci possiamo fare Delle belle cose Ragazzi Perché non ci vedono E noi possiamo Uccidere in completa Visibilità Tipo qua Boom Facciamo appare Questo davanti E lo spariamo Ok No C'è tutto Il primo quadrato Velocissimo Perché voglio Ok Vai morto No Mettiamoci qua Qua ci stanno sparando Allora Ok Fate conto Che sto sparando Con C'è il cecchino Se non sbaglio Cecchino 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 Bello Bello Mi piace Mi piace So che non vediamo niente Noi Però non abbiamo questo E nessuno lo sa So che non riesco a prenderlo Manca una volta Ok Boom Di dietro ce l'abbiamo Mi state prendendo per il culo Boom Ok Uno in testa l'ho preso Boom Questo è dietro qualcosa Ricarica Ricarica Mamma mia Che battaglia ragazzi Ok Oh questo qua Ok Questo con un colpo Shot Praticamente Non si riusciamo a prenderlo Non c'ho niente L'unica cosa che dobbiamo fare Ve l'ho detto ragazzi E giocare per forza Con il rilevatore qua Perché non vedo niente Cacco ci sono Oh l'ho preso Ok Non possiamo uccidere Andiamo in là Ok Alziamoci Eh muoviti Aspetta Ah non ho niente Non ho munizioni Dammi le munizioni Dammi le munizioni Perché non ne ho Questo è vuoto Avrei detto con i piedi Però che è Boom Boom Ok E sono andati pure questi Ma non abbiamo più Nella miseria Infatti E' tempo scaduto Se non Se non ho cose Che devo fare Ah questo non m'ha visto Ma m'ha visto Che cazzo sto facendo ragazzi Non so Non ho capito cosa sto facendo A caso A caso ragazzi Ce l'abbiamo fatta C'è tanto Non ci capisco niente Ma ce l'abbiamo fatta Questo è il bel E' quello che conta Però è partito l'elicottero Porca miseria Miller Bersaglio in fuga Ripeto Bersaglio E' che Mamma mia Occhi artificiali Arti sintetici Da computer microscopici Evoluzione controllata E' disponibile per tutti Ci fonderemo con macchine E con computer Gli illuminati non potranno controllare Uomini e donne simili a te Come avevano previsto Scene d'orrore per le vie di Detroit I potenziati sono in preda A una follia collettiva Shanghai Los Angeles Ankara Dubai La gente muore là fuori Milioni di persone La ricerca di superstiti a Pancea E' stata degradata A missione di recupero La Repubblica cieca Guida il fronte di tutti i paesi Che chiedono il trasferimento Dei cittadini potenziati E' un nuovo mondo Che teme quelli come noi Stati trasportati In distretti più sicuri E isolati Non pensate che sarebbe finita Con l'incidente Vero? Eravamo vittime Ci hanno puniti Per colpe che non avevamo Controllano i media Bello 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 ragazzi Veramente Esplosioni Forse autobomba Un altro attentato Questa volta In una stazione di pulizia Il consiglio di sicurezza Dell'ONU Ha incaricato L'Interpol La nuova unità speciale Antiterrorismo Potrà agire In noi Calparsi 29 La gente Non succederà mai più Vabbè ragazzi Questa prima parte Di Deus Ex Mankind Può finire qua Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace A condividere il video Restate attivi sul canale Perché continueremo Questo let's play Quindi porterò un episodio al giorno Qui da Poccio di Duzio È tutto Bella ragazzi